ZOMBIE APOCALYPSE E' bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video scusa fa tutto lei fa non capisco fa tutto lei io sono una famiglia pensavo dicevi io sono Xhuder già che c'eri io sono una famiglia lui è posso parlare e io sono Xhuder ragazzi vai vai parlalo tu finalmente finalmente perché parla sempre lui tutto tuo il video vai 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 no no non potrei sono troppo timida allora ecco a voi con what the end è giusto è giusto è giusto no vai pure vai vai finiamo finiamo vai vai no no vai vai siamo qua ragazzi con what the end in questo brevissimo video che come al solito vi portiamo perché è uscito ieri ieri un altro promo code un altro codice nuovo no è giusto scusatela ragazzi fa ancora fatica a rapportarsi con la web con il microfono è uscito il nuovo codice ragazzi del cicciogamer89 lo sapete lo conosciamo tutti ma questo video lo facciamo perché ancora non l'ha inserito sì giustamente come me che non l'ho ancora inserito no tu l'ha inserito questo è il mio profilo ma non l'ha inserito ieri nuovo nuovo no ah ero qui tu l'avessi inserito comunque ragazzi ve lo andiamo a dare praticamente subito e vi ricordo di cliccare sul vostro numerino è sempre il numerino che è il livello il livello che voi siete esatto il livello là in alto e poi sul bottone e poi andate sul codice promozionale se no dove lo inserire non lo potete inserire però vi ricordo ragazzi prima di andare a dirvi il codice mettete un bel like un bel pollicione in su ragazzi e iscrivetevi al nostro canale iscrivetevi al vostro canale tanti mi piace esatto mi raccomando ragazzi super like e super iscrizione al canale andiamo a inserire il codice che è gli elfi di ciccio gli elfi di ciccio andiamo a fare un via codice gli elfi di ciccio brooo samana samana ragazzi te ne dava in 50 50 crystal per questo codice e 100 oh ma io lo devo fare perchè io cos'è che vuole meglio non lo so cosa usi nel tuo cosa usi io ne uso un elfo anch'io quello che si teletrasporta tu usi crystal nel tuo deck si allora lo devo avere per forza crystal perchè mi trescium la potenzio e 100 gemmine e 100 gemmine ragazzi beh direi che questo super video un po' anarchico come al solito un po' ambigo un po' ambigo può terminare qua ragazzi io voglio ringraziarvi tantissimo per essere stati con noi a guardarlo spero inseriate il codice e quindi li vi salutiamo brava e quindi li salutiamo ciao ragazzi noi ci vediamo prestissimo ciao ok ciao 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 ciao